Sono nove gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla quale la procura pescherese ha comunicato alla conclusione delle indagini su appalti, tangenti e cocaina in un settore estremamente strategico per un'amministrazione comunale come quello dei lavori pubblici. Da Fabrizio Trisi, l'allora dirigente al comune di Pescara, l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, i dipendenti Gero Ricordi e Gianluca Centorame, sui quali pende anche l'accusa di assenteismo, Tommaso Catani, che sarebbe stato favorito nell'assunzione a Pescara Energia, oltre a Vincenzo Cerelli e Pino Mauro Marco Aurelio, presunti fornitori di cocaina e la ditta di De Leonibus come persona giuridica. Tra gli indagati anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ma per una vicenda del tutto marginale che riguarda il pagamento di una cena elettorale di circa 400 euro e sulla quale lo stesso Sospiri, in una nota, ha precisare di non aver a lui organizzato quella cena e nemmeno accettato che qualcuno la organizzasse per al suo conto e di aver partecipato esclusivamente come invitato, presenziando, peraltro, per non più di mezz'ora, senza ricevere alcun finanziamento elettorale né diretto né indiretto. Riguardo all'inchiesta, nel suo complesso, le ipotesi di reato vanno dalla turbativa d'asta alla corruzione, al finanziamento illecito dei partiti, fino all'assenteismo e violazione del Decreto 231 del 2001, che riguarda la responsabilità amministrativa dell'impresa favorita, in questo caso la De Leonibus Costruzioni. Secondo quanto accertato dai magistrati inquirenti, Anna Benigni e Luca Sciarretta con Trisi, l'impresa di De Leonibus aveva una sorta di canale preferenziale nell'affidamento di una serie di lavori, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti comunali dell'ACA, plurimi affidamenti diretti, insomma urgenza e forniture pubbliche per il Comune di Pescara per importi superiori a 100.000 euro tra il 2020 e il 2023, per quali Trisi avrebbe ricevuto da De Leonibus, tra le altre cose, il pagamento di ben 43 pranzi ai quali partecipavano anche familiari e i suoi diretti collaboratori ricordi e centorame e la consegna di oltre 1.000 euro per l'acquisto di cocaina da intercettazioni pare perfino trasportata all'interno dei mezzi comunali.